Ciao, benvenuti a Cazzeggio Catabiotico Ciao, benvenuti a un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotico anche questa puntatona dal colore di retrocomputing, anzi di retromanual sì, questa puntatona andremo a fare un veloce viaggio nel tempo nel mondo dell'informatica della Gran Bretagna andando ad esplorare il manuale utente del BBC Accord Master 512 ZX Spectrum Sinclair e il manuale Amstrad CPC 464 non perdiamo tempo e tuffiamoci subito in questa avventura spaziale eccolo qui, questo è il manuale della Sinclair ZX Spectrum che veniva dato per il basic, allegato al barattolino veloce con i tasti di gomma lo abbiamo trovato in versione inglese cosa era contenuto? capitolo 1, introduzione capitolo 2, elementi basici e concetti di programmazione la IF, i cicli, il gossip, il read data restore, le espressioni, le stringhe, funzioni funzioni matematiche, numeri casuali, vettori e matrici, condizioni end or not codice dei caratteri e caratteri speciali, utilizzare footprint e input utilizzare varie combinazioni di flash, invert, bright e quant'altro la grafica, qua abbiamo le pause, i beep, i sonori utilizzo delle periferiche per salvare le informazioni la stampante, altri equipaggiamenti che è possibile mettere sullo spectrum prese di entrata e uscita, la memoria, il sistema delle variabili, l'utilizzo della macchina e varie appendici sono circa 277 pagine, 221 circa no, 217, perdono andiamo a bomba a vedere questo manualino com'era? ok, il link non ve lo do perché se volete lo potete trovare in descrizione con certi budget di programmazione, va bene la list capitolo 3 si spiega la if con lo stop va bene poi abbiamo capitolo 4 i cicli, for next con l'aggiunta di 2 e di step va bene capitolo 5 le subroutine go sub e return data, read, data e restore va bene capitolo 7 le espressioni capitolo 8 le stringhe e la sua manipolazione capitolo 9 le funzioni def e quant'altro poi nel 10 abbiamo le funzioni matematiche quelle che erano già presenti nel basic capitolo 11 numeri casuali nel 12 abbiamo i vettori e poi probabilmente anche le matrici le condizioni end or not capitolo 14 il set dei caratteri con le istruzioni speciali pic e poc alcune informazioni sulla print e sulla input con il monitor ben fatto questo manuale molto fatto veramente molto bene per la programmazione spiegato bene i colori ce ne ha a dirci nulla si imparava il linguaggio in modo rapido e veloce capitolo 17 la grafica plot, draw, circle e point peccato che ci avesse una tastiera a pipero il computer motion, pause, ink e pick beep qui personare personare all'oggiato 80 l'utilizzo della diciamo della cassetta per salvare le informazioni load, save, verify e merge stiamo operativo sarebbe via che poi in parte perché sia ci si appoggiava sulla cassetta o i mini dischi che poi era la stessa cosa la stampante ZX altro equipaggiamento c'è nemmeno una foto in questo manuale esattamente compatto ben fatto spiegato un po' di grafici in una radice nemmeno una foto di cosa fare non sa non fare indubbiamente essere già solo per la programmazione perlomeno si dava per scontato che gli utenti fossero questo era il basic che veniva nucleato per tutti i comandi si dava per scontato che gli utenti già fossero a un determinato livello oltre la soglia di un certo livello alcuni esempi di listati dati dati che si era meglio secondo me darli su cassetta o microdrive meglio su cassetta codici binari esadecimali vabbè un indice mi sa che poi siamo giunti alla frutta si un bel manualetto onesto sincero nel 1983 prevedeva già che gli utenti fossero già ad un determinato livello per ammaneggiare la macchina ma si spiegava il basic e l'utente praticamente il basic lo imparava nuova da dici ecco il manuale della mostrata cpc 4 seica 4 della jackson manuale d'uso è stato tradotto in italiano per diciamo eventualmente probabilmente per un certo numero di pezzi che finirono venduti anche in Italia ma in modo minore perché questo computer non fu mai pubblicizzato mai visto sulle riviste se non in modo marginale andiamo a vedere cosa c'era in questo manuale per i principianti avvio registratori a cassetto introduzione al basic variabile operatori e dati introduzione alla grafica introduzione al suono stampante e joystick guida sintetica di riferimento al basic amstrad ulteriori informazioni di programmazione interrutt e una serie di appendici ok andiamo a bomba veniamo a vedere cosa c'era ecco si introduceva si attaccava il computer alla monitor e qui si dava la spiegazione di cosa c'era questo manuale dell'80 watt quindi tenete presente monitor a colori va bene ok il joystick l'utilizzo delle cassette è fatto numeramente bene questo manuale viene spiegato con le figure in bianco e nero per i bimbi piccini ma comunque le cose si capivano con i vari comandi ok istruzione delle parole chiave CLS qui viene spiegato codice per codice con esempi in modo praticamente da introdurre i lettori praticamente alla programmazione del basic grafica e modalità del suono c'erano i colori tabella dei colori 26 che non erano nemmeno pochi eh tanta roba va bene ti viene spiegato altre informazioni colori lampeggianti programmi dimostrativi per esercizietti grafica va bene plot i vari comandi di plot new origin gossip return il suono come fare con il suono qui c'erano i già comandi particolari perchè questo c'aveva il chipset per il suono e anche per la grafica quindi era un bel computerino avvio il monitor a colori monitor a fosfori verdi monitoratore tv alimentatore va bene passiamo oltre rapidamente vediamo un po' cosa c'era questo era un creatore andiamo al programma i listati correzione nell'uso del secondo cursore registratori a cassette ok come adoperarlo e cosa fare vabbè qui veniva spiegato in modo decisamente molto approfondito quasi meglio oserei dire del manuale del comodoro 64 fatto con cura vediamo un po' forse quasi meglio magari una parola un po' grossa però diciamo che per le persone che non avevano mai visto un computer queste venivano acculturate prese per mano dal manuale e spiegato in modo veramente buono anche se il manuale forse il comodo 64 era decisamente più tecnico con un sacco di risorse in più aggiuntive di questo comunque vediamo un po' qui siamo alla if i vettori data dubbiamente la programmazione del basic si imparava introduzione alla grafica questa è una grafica più elevata pulsori grafiche disegno di linee con esercizi e t le finestre introduzione al suono il volume canali di suono altri suoni sequenze dei comandi stampanti joystick ecco questo è il piacere per quelli che giocavano qui da sintetica di riferimento al basic hamstratt questo probabilmente erano parole un riassunto di tutto quello che era stato fatto fino a ora vale decisamente completo un ribertino fatto bene tenete conto che era del 1984 se non mi ricordo male 85 vabbè finiamo un po' accidenti quanti ce n'è era un basic decisamente molto ricco di comandi ulteriori informazioni di programmazione caratteri di controllo basic interrutto qualche riga di assemble per spiegare che cosa c'è ma mi sa che qui appendice informazioni sulle macchie sulla macchina interferenze glossario dei termini bel manuale indubbiamente quasi quanto tanto quanto il bel manuale del comodo che è un po' il punto di riferimento di manuale del comodo 64 di riferimento di un po' tutti manuale ma questo indubbiamente era quasi a quel livello appendici c'è finalmente una tabella di codici asci siamo a vista invece una tabella di codici asci in un manuale apple utente 0 di 0 quindi questo era decisamente meglio dei manuali apple traduzioni per l'uso del cpc per utilizzatori esperti veniamo un po' scelta dei colori cosa c'era in più mappa della memoria si incomincia a scendere a livello un po' più basso un appendice per spiegare cosa c'erano i vari spinotterie sul 464 la pedinatura degli spinotti schermo di testa testa e finestra modo 80 colonne periodi note e toni bella cavali degli inviluppi della musica codice parole riservate e poi un indice poi mi sa che stiamo arrivati alla fine se quindi di sicuro un bel manuale d'uso quasi tanto quanto quello del comore 64 forse un pochino meno quello del comore 64 obiettivamente c'era molte più informazioni tecniche per approfondire e sviscerare la macchina fino in fondo però questo era decisamente un manuale ottimo decisamente superiore rispetto ai manuali utenti dell'apple che erano veramente orrendi degli obbrovi praticamente dei brochure per vendere altra roba vabbè passiamo oltre acco il master 512 manuale utente questo del 1986 andiamo a vedere questo manuale di questo computer avete presente che questo era già sotto praticamente la patroscinio della olivetti o perlomeno stavano quasi per comprarla introduzione utilizzo del gem gempaint gemwrite gemdesk output guide appendici glossario si incredibile ma vero cosa si scoprirà si scoprirà niente un po' di meno che c'erano delle finestre su questo acro si perché poi dopo successivamente lo stesso sistema operativo verrà mutuato in denominato arthur.1 punto qualcosa sul praticamente l'archimeres e quindi di conseguenza quello che vedete qui questo per ora funzionava su un computer ad 8 bit ma poi successivamente sarà portato né più né meno su il primo risk dell'archimeres questo è manuale del della versione voluta dell'accormaster 512 che aveva già una dotazione di finestre quindi praticamente odorava fortissimamente di macintosh e che poi dopo sarà lo ritroveremo anche praticamente nella versione amiga tutta questa versione finestrata sulla amiga 1000 né più né meno eccole qua questo però fortissimamente era a colori ora vedremo non saprei nemmeno l'irgolo nemmeno io c'era l'orologio la calcolatrice introduzione a gempaint per fare dei disegnini in bianco e nero qui odorava fortissimamente di macintosh con macpaint tools e palette geometria degli oggetti un po' di disegni al microscopio il selettore i menu dei comandi new open close save house abandoned output che qui sotto la versione file un manuale poteva anche non guardassero perché tanto se c'erano le finestre andava a scartapellare sulle finestre e trovava tutti i vari comandini un po' come su macintosh una cosa che funzionava sul praticamente il master 512 eccoci qua ora c'è da chiedersi come mai nemmeno già questa versione di questo sistema operativo non fu portato non fu portato sugli polivetti pc 128s che rimasero a linea di comando e queste finestrine che perlomeno non erano eccezionali ma comunque già c'erano devono essere portate chiaramente questi funzionavano su un computer ad 8 bit però 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 era già qualche cosa di diverso rispetto a smanettare su un computer vetto con interfaccia a linea di comando certo non avrebbe potuto arginare l'amiga 1000 ma perlomeno diciamo ad un prezzo più basso con un computer aperto e con un sistema operativo a finestre sarebbe stato già una macchina completamente diversa rispetto a una macchina chiusa va bene vediamo un po' questo è interessante da scoprire vedi una volta sono tante cose che non si scoprono in ritardo comunque in un secondo momento entrare nel sistema dell'output qui c'era la gestione comandi c'era un sistema operativo a 8 bit con le finestre e quindi c'è po' da dire configurazione accordmos vabbè basic poi c'era anche la possibilità di switchare con l'interprete basic un glossario che non facciamo mai male jam index e questa è la prima parte poi andremo a vedere la seconda parte del chiso questa è la prefazione traduzione al dos plus comandi questi però erano a linea di comando e attenzione attenzione questo il dos plus era a linea di comando quindi ce ne aveva probabilmente due era il jam dos in versione accord e questo invece il dos plus ha linea di comando per plot to beat accord master 512 e la ragione perché poi il jam dos finì una bella sorpresa di questo master 512 di ship